e c'è qualcosa c'è qualcuno che mi sta guardando no 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 io non ce la posso fare ragazzi un gioco horror creepypasta in PR biondo con gli occhi azzurri il kasukide mamma gli hai regalato un nuovo gioco duck season tipo duck hunt si ma fai i compiti prima certo 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 mamma certo che farò i compiti duck season bello molto bello l'inizio mi sto già piacendo ok però ecco devo ricordarmi che questo è un creepy game ma è proprio tipo anni 80 bellissimo ma sembra veramente di stare una stanza ciao mamma prepariamo un cappellette con tante crocchette cereali io non so perché dicevo crocchette adesso mi siedo qua e mi guardo la tv è tipo il tutorial perché in questo gioco dovremmo sparare col nostro sega sadun uuuuuh perchè 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 così arrabbiato mamma e preparami un nuovo paio di mutande me la son fatta addosso allora per giocare play level 1 a posto posso già giocare e potrei anche mettere altri film o altri videocassette vabbè giochiamo è tipo duck hunt allora primi controller spara porco cane ehi strano cane molto creepy ciao mamma sono in tv cosa succede ma me lo spieghi tu allora dovete sapere che io ho già fatto tiro piattello no una volta quindi dovrei sapere un po come si sparano se tu puoi prendere le munizioni così praticamente con la forza della telepatia ok grazie dove sono le dannate paperelle espi giochei te le farò fuori una volta per tutte o aspetta stanotte si cena al genone di natale sembra un pollo è proprio come d'accanto è lo stesso cane si trova in d'accanto ok ehi no almeno devo sparare credo se non mi mangio l'anima ok chi è la prossima mi dispiace è spennata e spiumata e dovrebbe cadere qua dentro il camion se eccola qua aspetta c'è un'altra lì e un'altra lì l'ho presa no cavolo ok perfetto io lo devo ricaricare e anche tu ne vuoi hai uno è meglio per te nasconditi villano potrei farlo ad occhi chiusi donato cagnaccio eh adesso lo vai a prendere tu ok credo che abbia finito è stato divertente oh ce l'ho sì la nuova puntata ai cartoni animati oh ragazzi avete visto oh la mamma ha detto che non poteva giocare però il cane si è vendicato un cane che insegna i bambini a sparare wow this is america aiuto e vabbè ma voglio provarci anch'io a fare quella mostra e a farla anch'io dopo che pro gamers che sono questi sono level 100 ehi ehi ma perché a me perché a me perché questa pubblicità non è educativa dove sono dannato coniglio si anche stavolta grande cane noi siamo il miglior tuo io e il cane io lo porto a spasso lui mi porta spasso ci portiamo spasso che spasso ok alle 3 credo che arriveremo fino alle 9 poi moriremo tutti oh si arrivo anch'io mamma mia i gundam guarda che bello mua andiamo mamma se vuoi andare a te io sto avendo il miglior giorno della mia vita mamma mia grazie 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 tu no però tu mi rubi le mie papperelle tu hai un colpo oh 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 ehi angelo gabrile c'è un problema we are we just mamma cosa hai messo nel caffè latte svegliati dormiglione sii deficiente oh scusa ho nerdato troppo mamma credo ho fatto sogni strani ok però credo che continuerò a giocare perché questo gioco mi ha tolto la vita sociale no te pappere è colpa vostra sono gli incubi mi sogno la notte ormai le uccise tutte manco una mi è scappata bravo me e adesso mamma sono solo otto giorni che gioco di fila senza mangiare ma è che devi guardarmi così ah non è vero sei 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 ma a me è sempre là perché i miei giochi sono tutti riuniti tipo domino eh c'è qualcosa c'è qualcuno che mi sta guardando ahhh ehi mamma è la porta aperta ahhh mi sto guardando il cane che succede eh ahhh ahhh ciao mi ucciderei nel sonno vero sono molto più bravo di una volta ora guarda a te una ci siamo guarda qua si si lo so che ho sparato a sparare là non sono un idioto come te bam 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 wow wow vado fino a un po' vado a dormire mamma ma io mi sto divertendo un casino c'è round 4 round 4 fiesta ending fiesta ending cosa oh che vuol dire vado a dormire ok va bene mi lavo i denti oh ho vinto il gioco ho vinto così ho vinto così ho vinto il gioco ho vinto così ma sai io avrei scoperto questo uccidio ma mamma io devo nerdare no no buona notte mamma mamma perché smette la luce aspetta cosa succede cosa succede c'è qualcosa ci sono palloncini mi hanno regalato un gioco final fiesta 2 credo che questa sia una delle fini devono andare dal re e col cane eh oh sì ok bello wow ma guarda che si sta colorando scena mente bellissimo ok a quanto pare quella che abbiamo fatto noi è stata la good ending il problema è che c'è una bad ending vediamo adesso voglio fare questo test se noi spariamo il cane ci accagniamo guarda che lo so mi accanisco mi accanisco contro il cane frega niente a me eccolo là ciao pezzente frega niente ciao oh fuori dalle barre non me ne frega niente sta succedendo qualcosa ragazzi sento uno strano temporale dove sei? non c'è più wow indietro oh no oh che succede? non ho i miei cartoni di madre proteggimi proteggimi tu proteggimi mia madre è morta quella è mia mamma ha ucciso mia madre non glielo posso perdonare va bene come face me vuole combattere ready don't let tv brick non devo devo impedire che la mia tv io mi sono addormentato la ok ragazzi devo impedire che la mia tv si rompa chi devo combattere? il cane? chi è? sei là maledetto preso oh adesso le papere vengono contro di me oh maledizione oh no nuova ritornazione ok se la posso fare cavolo vengono addosso la tv maledetto no cavolo hanno un po' distrutto la mia tv quanta vita a bocca vai l'ho ucciso è morto si o no vieni fuori dov'è? dove sei? ho vinto ho vinto si e adesso? e se è tutto glit cosa? oh no oh no stai lontano da me ok aiuto è il boss finale è diventato dorato il mio shakkan mi dispiace ma devo no oh sto usando il laser per distruggere il mio schermo maledetto 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 devo farcela devo farcela ok si vieni a prenderlo muori sapevo che era una bestia di male l'ho fatta sono veramente salvo adesso sono salvo oh ragazzo che mi sta succedendo cavolo oh no è mezzanotte aiuto la mia torcia la mia pistola dove è la mia pistola dove sei? dove sei? lo sento tieni fuori tieni fuori maledetto maledetto dove sei? oh maledetto stammi lontano maledetto stammi lontano oh t'ho ucciso t'ho ucciso dove l'ho arrivato da lì t'ho ucciso t'ho ucciso è diventato blocchi di reddleton ragazzi oh canon ending e distruggo il gioco eh grazie eh però mamma che me la ridà la seppellisce a lui? lo seppellisce il gioco cavolo eh ma che brutto che prima o la fine di Final Fantasy una pistola e se ne va così ok ragazzi a subito la cosa io penso di concludere questo episodio di Dark Season qua veramente gioco stupendo bello mi piace questa cosa della creepypasta e so che ci sono molte altre ending che si possono fare quindi fatemi sapere nei commenti se magari volete vederle io però per questo episodio concludo qua ne ho avuto abbastanza perché sono 4 ore che registro questo gioco per avere almeno queste due ending vi ringrazio per la visione e magari le altre saranno anche un po' più carine speriamo detto questo io concludo questo video qua e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao